In studio Viviana Sammico. Chiamanord aveva abbandonato l'aula già prima della votazione e tra quelli definiti inelegibili. Chiaramente adesso c'è crisi all'interno della maggioranza, 34 i voti contrari al salvo inelegibili, 30 i favorevoli. Facciamo il punto in questo servizio. Non sono stati salvati i deputati definiti inelegibili. Davide Vasta di Sud Chiamanord e i tre di Fratelli d'Italia, Giuseppe e Nicolo Catania e Dario Daidone. È stato bocciato oggi pomeriggio il DDL salva inelegibili voluto da Fratelli d'Italia e spaccatura all'interno della maggioranza. Determinante il voto segreto voluto da Fratelli d'Italia, la norma è stata bocciata dall'ARS, 34 voti contrari e 30 favorevoli. A nulla sono varsi tentativi di confronto nel corso del vertice convocato stamattina da Schifani per ricompattare i partiti di centrodestra. Il futuro dei quattro parlamentari sotto accusa dipende dalle determinazioni della magistratura davanti alla quale hanno presentato ricorso. Durante le votazioni solo Davide Vasta di Sud Chiamanord è uscito dall'aula. Il monito per questioni di natura morale era anche arrivato dal leader del movimento, Cateno De Luca. I deputati melognani hanno lasciato l'aula solo subito dopo la votazione e si sono riuniti nella torre pisana di Palazzo De Normanni per un vertice. La tensione è altissima. Torna invece in commissioni affari istituzionali la riforma delle province che sarà incardinata nuovamente in aula martedì prossimo. Gli eventuali emendamenti saranno proposti a Sala d'Ercole. E come avete sentito dal servizio si sta anche parlando della reintroduzione dell'ex provincia. Questa è tra le priorità del governatore Schifani. Ma tutta la prossima settimana la discussione di questo disegno di legge nel frattempo in tanti si chiedono. Ma è costituzionalmente legittimo? Noi l'abbiamo chiesto alla costituzionalista Gatino Cariola. Sentiamo cosa ha detto. Era già nel programma elettorale ed è tra le priorità del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Non si retrocede sul disegno di legge che prevede la reintroduzione delle province stabilendo un'elezione diretta del presidente dei consigli provinciali anche nelle città metropolitane. Il dibattito all'Assemblea regionale siciliana è già avviato. La relazione è stata illustrata ieri sera dal parlamentare regionale Niaccio Abate, presidente della prima commissione affari istituzionali. I partiti e i potenziali candidati si stanno già preparando per la campagna elettorale. Ma la spada di Damocle pende su questo DDL a causa della legge nazionale del Rio che cozza con i principi contenuti nella proposta di legge con il rischio che potrebbe essere impugnata. Secondo il costituzionalista Gattino Cariola, ad essere incostituzionale è invece la legge del Rio. La legge del Rio conteneva e contiene tuttora un baco, un vero e proprio difetto di costituzionalità. La regione Sicilia ha l'obbligo, al mio modo di vedere, di legiferare e di dare risposte ai cittadini. Da anni, dal 2012, c'è un vulnus di democrazia particolarmente intenso per le ex province. Poi la Sicilia ha anche l'obbligo di sostenere le proprie ragioni nella sede del giudizio costituzionale. Vi stupirete di una cosa? Che la Sicilia in sede di giudizio costituzionale non va a difendere le sue leggi. Il processo riformatore investirà anche il Parlamento nazionale, che a quel punto sarà costretto a modificare la legge del Rio. Ma non possiamo aspettare che gli altri facciano le cose per noi. Siamo noi siciliani i primi a dover occuparci delle nostre cose, compresse le nostre province. È stata concessa una proroga per tenere aperto il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina fino al 31 luglio. Fino al 31 luglio il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina resterà in attività. Qualche giorno fa, infatti, la regione aveva fatto la richiesta di mantenere in funzione il reparto, in attesa che entri a regime la cardiochirurgia pediatrica del Civico di Palermo. Richiesta che è stata accolta al Ministero della Salute, che ha emesso parere favorevole di concerto con il Ministero dell'Economia. Dunque c'è la proroga della convenzione tra l'ASPA di Messina e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. In questi sei mesi, comunque, ha detto Schifani, va trovata una soluzione definitiva e continuiamo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, non nascondendo le difficoltà dei vincoli posti al vigente decreto Balduzzi, conclude Schifani. Ciò che servirebbe, dunque, è la deroga a questo decreto, così da far coesistere entrambi i centri, quello di Palermo e quello di Taormina. Arrivano delle novità per gli sconti sul bollo auto, li sentiamo in questo servizio di Sara Donsuso. È arrivato il decreto della Regione che sancisce lo sconto sul bollo auto e sarà attivo dal 5 febbraio per ottenere il 10% per i pagatori regolari. Decreto che sancisce anche la proroga per il pagamento del bollo fino al 29 febbraio. A metà febbraio verrà attivato anche lo sconto per chi farà la domiciliazione bancaria. Ben vengono gli sconti, ci chiediamo però alcune cose. Visto che questa possibilità degli sconti è stata annunciata a dicembre, non si poteva utilizzare proprio dicembre per aggiornare i sistemi, così da consentire già dai primi giorni di gennaio di applicare la scontistica ai utenti? Perché ci sono utenti, tantissimi, che le scadenze le rispettano e in questo mese di gennaio hanno adempiuto al loro dovere pagando la tassa. E chi ha già pagato? La Regione garantisce che si potrà chiedere rimborso, ma quanti hanno il tempo di farlo? Occorrerà infatti recarsi nelle sediaci per ottenere tale rimborso. Intanto i sistemi ancora non sono aggiornati. Siamo in una fase di incertezza momentanea. Il decreto l'ho appena ricevuto in posto elettronico in questo momento, lo stavo per leggere. Di tutto ciò ancora al momento non si hanno disposizioni attuative, quindi i nostri sistemi non sono in grado di poter riscuotere con la scontistica prevista. Siamo in attesa di chiarimenti che suppongo, immagino, prevedo, spero che nelle prossime ore arrivino. Attivarsi per poi recuperare, non so quale, un 10% su una tassazione media che è sulle 180-160 euro. È conveniente? Ne vale la pena? Non saprei dare la risposta. Ognuno poi prende le decisioni che ritiene più opportune. Un giovane di 20 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Bagheria, nel Palermitano. La polizia è intervenuta dopo la telefonata della madre, è già intervenuto il medico legale per l'ispezione cadaverica e da un primo accertamento apparentemente non sono stati trovati segni di violenza sul corpo, ma le indagini continuano. Per spingere le accuse, il medico accusato di violenza sessuale nei confronti di una quattordicenne, l'uomo si trova ai domiciliari. Si è dichiarato innocente, il medico che avrebbe abusato della quattordicenne ad Enna è arrestato. L'uomo si trova ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale, si è presentato davanti al GIP di Enna per l'interrogatorio di garanzia, sequestrati dagli inquirenti telefoni e supporti informatici che saranno analizzati da un perito. All'indagato è stata contestata anche l'aggravante dell'abuso di autorità trattandosi di un professionista del settore medico al quale la minore era stata affidata in cura. Le indagini della procura di Enna hanno preso il via dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla quattordicenne perché una delle insegnanti aveva registrato il malessere della ragazzina. Grazie alle indagini, spiega la procura in una nota, sono stati raccolti numerosi gravi indizi di colpevolezza che hanno fornito un quadro indiziario molto pregnante sulle accuse da contestare al professionista. Plauso all'iniziativa assunta dagli insegnanti che hanno segnalato la situazione di pericola alle istituzioni preposte viene espresso dallo sportello antiviolenza Diana Di Enna dell'associazione Cotulevi. Il GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della procura archiviato, un procedimento penale che vedeva un docente accusato di molestie sessuali e danni di due studenti di 16 anni. Il procedimento era stato avviato sulla base della denuncia presentata da un'altra insegnante che aveva raccolto le confidenze di uno dei due alunni. I genitori invece non hanno mai sporto denuncia. Adesso andiamo a Vittoria con il caso dello scoppio di una valvola di un termosifone che ha provocato ustioni ad una bambina di otto anni perché abbiamo ascoltato soprattutto le dichiarazioni del papà e della nonna della bambina i quali hanno dichiarato, non intendono dire, le vie legali. Sentiamo Valentina Frasca. Ci troviamo davanti alla scuola elementare Foderà di Vittoria dove ieri mattina si è verificato l'incidente che ha coinvolto una bambina di terza elementare ora ricoverata al centro Grandi Ustioni di Catania. Noi questa mattina abbiamo provato a sentire la preside Giovanna Mallia che però ha detto che al momento essendoci degli accertamenti in corso non intende rilasciare dichiarazioni. Questa mattina qui c'è stato un sopralluogo congiunto ci sono stati i tecnici dell'ufficio comunale ci sono stati i carabinieri che stanno svolgendo le indagini coordinati dalla procura di Ragusa ci sono stati anche i rappresentanti della ditta che si occupa della manutenzione dei termosifoni proprio per cercare di capire che cosa possa essere accaduto e che cosa possa avere provocato questo gettito di acqua bollente che ha colpito la bambina. A casa della piccola c'è molta preoccupazione ma anche tanta rabbia papà Manuel e nonna Giovanna fanno la spola tra Vittoria e Catania e chiedono giustizia. Noi pomeriggio andiamo dall'avvocato e procediamo per via di legge con la speranza che non si ripeta mai più in nessun luogo scolastico perché i bambini dovrebbero essere appunto tutelati. La bambina era di spalle e la valvola del termosifone è esplosa e tutta l'acqua è andata a finire dal fondo schiena alle caviglie alla mia bambina. Hanno detto che dovevamo portare un cambio perché la bambina si era bagnata. Noi abbiamo preso il cambio e siamo arrivati a scuola e ho trovato la bambina mezza nuda che piangeva con tutte le gambe quasi sciolte e noi dovremmo essere tranquilli a casa sapendo che i bambini sono a scuola protetti. Perché oggi succede una cosa, domani ne succede un'altra e poi piangiamo noi genitori e loro pur essendo colpevoli, pur essendo comunque mamme hanno la capacità di essere molto superficiali. La superficialità al nostro caso non ci appartiene perché abbiamo un dolore immenso perché la bambina per noi è tutto, la nostra principessa. Queste le dichiarazioni dell'assessore all'istruzione del Comune di Vittoria, Francesca Corbino. La ditta ha verificato l'intero plesso, quindi è tutto a posto, i ragazzini sono entrati regolarmente in classe tant'è vero che la preside ha detto ovviamente che le elezioni sono ricominciate e non c'è un problema, non c'è nessun tipo di problema. Ci stiamo sempre informando sulla situazione di salute della bambina oltre che ovviamente della scuola che sia tutto a posto e in sicurezza. In questo servizio d'aggiornamento e sulle condizioni di salute della bimba. È ricoverata presso il centro grandi ustioni all'ospedale Cannizzaro di Catania la bambina di otto anni che ieri è rimasta ferita per lo scoppio di una valvola di un termosifone nella scuola elementare Foderà di Vittoria. La bambina, così come ci dice il direttore del reparto, Rosario Ranno, presenta ustioni di secondo grado agli arti inferiori ai glutei. È ricoverata in terapia intensiva e stamattina già è stata fatta la prima medicazione in anestesia generale. Le ustioni sono delle ustioni non circonferenziali agli arti inferiori, nella regione posteriore di entrambi gli arti inferiori e del gluteo. È un ustione di secondo grado intermedio, quindi diciamo che sono ustioni che tendenzialmente se non vengono trattate male, guariscono spontaneamente con pochi esiti cicatriziali successivi. La bambina è in terapia intensiva, con lei c'è la mamma che sta a H24 accanto alla figlia. Sì, questa è una scelta che noi abbiamo fatto tanti anni fa e devo dire che siamo felici di questa scelta, anche se impegnativa dal nostro punto di vista. in la parte pediatrica del centro ustionale di Catania ha delle stanze dedicate ai bambini dove prevede anche il letto per la mamma o per il parente che sta vicino a lei. Le medicazioni vengono fatte una volta ogni 5-6 giorni, in maniera tale anche perché abbiamo dei materiali che ci permettono di poter usare questa tempistica. La leggenza media per questo genere di ustioni è intorno a due settimane, quindi una decina, 10-12 giorni e quando vediamo che possiamo dimettere manderemo al domicilio e continueremo i piccoli controlli in maniera assolutamente indolore e in ambulatorio. Per quanto riguarda la bambina, ieri ha comunque collaborato da un punto di vista psicologico, è provata ma comunque è stata collaborativa? Allora, dire che una bambina è collaborativa è una parola grossa. Diciamo che siamo riusciti a gestirla in maniera poco traumatica. La bambina avrà anche la possibilità di avere degli antidolorifici perché comunque ci spiegava che queste ustioni di secondo grado comunque provocano dolore? Certo, assolutamente sì, la terapia antidolorifica è prevista, non è molto marcata perché le medicazioni non fanno il loro dovere, però ovviamente nessuno nega un antidolorifico a nessuno. Peppe Puglisi non è più assessore del Comune di Scicli, il sindaco ha revocato le deleghe e nessuna dichiarazione da parte dell'interessato. Peppe Puglisi non è più assessore del Comune di Scicli, la revoca dall'incarico è stata firmata ieri dal sindaco Mario Marino. La decisione segue all'autosospensione a seguito dello scandalo che ha travolto l'ex assessore. Tutto è accaduto domenica 21 al termine di una travagliata partita per lo Scicli che ha perso in casa contro il Pro Ragusa. La terna arbitrale è stata contestata e ha accusato la tifoseria di aver urinato all'interno delle borracce, vandalizzato l'autovettura dell'arbitro e, episodio più grave, aggredito un guardalinee di 30 anni. Quest'ultimo ha indicato lo sconosciuto aggressore ai carabinieri che hanno invece riferito di conoscerlo e l'identità era proprio quella dell'assessore Puglisi. Le indagini continuano, ma ovviamente hanno avuto un impatto importante sul piano politico. Prima l'autosospensione, oggi invece la revoca, mal digerita dall'assessore Puglisi che ha affidato il proprio sfogo ad una nota. Un'accusa ancora non provata da alcun organo inquirente e la scontata speculazione politica da parte dell'opposizione costituiscono elementi tali per cui il legame con il sindaco venga meno. Nonostante il primo cittadino avesse chiesto la mia autosospensione in attesa che si facesse chiarezza e avesse riposto fiducia nella mia persona, ufficialmente e pubblicamente ha deciso di seguire un'altra strada. Non posso che prenderne atto. Puglisi si definisce amareggiato per il trattamento che gli è stato riservato dal sindaco Marino. Quest'ultimo ha commentato così la determina. Ho atteso alcuni giorni per decidere la migliore soluzione per la città e lento. Ho chiesto all'assessore Puglisi e al suo gruppo di presentare le proprie dimissioni, non ricevendo alcun riscontro nei fatti. Tant'ho assunto la decisione più idonea nell'interesse esclusivo della collettività ciclitaria. Il prefetto di Galtanissetta, Chiara Armenia, ha firmato un provvedimento antimafia interdittivo a carico di una società che opera nel settore del commerciale ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento colpisce una società con sede legale a Gela e operante nel mercato ortofrutticolo di Vittoria. Sono giorni di protesta in tutta Italia ed anche in Sicilia per il comparto agricolo che continua con le proteste. Sentiamo i dettagli nel servizio di Veronica Puglisi. Si moltiplicano le proteste in Sicilia dove gli agricoltori continuano a portare avanti le proprie rivendicazioni, sotto la lente di ingrandimento, il costo delle materie prime, l'aumento del prezzo del gasolio, i costi di produzione, il divario tra prezzi pagati ai produttori e quelli dei prodotti sul mercato. Sotto accusa anche le quote latte, l'aumento della burocrazia. Ha coinvolto anche Modica la manifestazione degli agricoltori e allevatori del comprensorio modicano che sono scesi in campo contro le politiche dell'Unione Europea. I mezzi agricoli, circa 38, sono partiti da Contrada Beneventano e hanno percorso la Modica Ispica, l'ex statale 115. Agricoltori, ultimo atto è il claim che ha guidato l'iniziativa. State protestando contro le politiche dell'Unione Europea, cosa rivendicate oggi? Rivendiciamo il caro vita, il caro delle materie prime e un po' tutto quello che circonda l'agricoltura. Stiamo portando avanti una protesta che purtroppo siamo al collasso completo. Speriamo che qualcuno se ne accorgi. Portiamo avanti la nostra terra, l'agricoltura, salviamo il nostro prodotto. Speriamo bene che qualcosa migliore. Il nostro sfavore è la carne sintetica. Il pezzo del latte, i costi di produzione troppo eccessivi, la pacca che ce l'abbiamo contro completamente, tutto. Il corteo ha percorso per tutta la mattinata il quartiere Sorda. Durante il tragitto la manifestazione ha attirato l'attenzione degli insegnanti del plesso via risorgimento dell'Istituto Comprensivo Raffaele. Poi domani i docenti hanno spiegato ai bambini l'obiettivo della manifestazione, illustrando loro le problematiche del comparto agricolo, favorendo un'adeguata conoscenza di quanto sta accadendo delle difficoltà attraversate dagli agricoltori. Domani alcuni soci col diretti della Sicilia saranno presenti per la prima mobilitazione con gli agricoltori che scendono in piazza a Bruxelles. Saranno presenti oltre un migliaio di contadini e allevatori provenienti da tutta Italia per denunciare gli effetti delle politiche europee e presentare le richieste della principale organizzazione agricola europea. Parliamo degli incendi di vampati nei centri per il rimpatrio di Milo perché sono stati fermati tre immigrati accusati di essere gli autori. Rimangono nel carcere Pietro Cerulli di Trapani tre immigrati ritenuti responsabili degli incendi nel centro per il rimpatrio di Milo il 22 gennaio scorso. La struttura è stata devastata, secondo l'accusa, da due tunisini incensurati e da un maurucchino con precedenti pariati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Al momento del fermo eseguito nel pomeriggio del 24 gennaio scorso, tutti e tre indossavano gli stessi indumenti e accessori ripresi dalle telecamere il giorno dell'incendio. La consistenza e diffusività dei danneggiamenti provocati rende evidente che ci si trova al cospetto di un'azione indiscriminata di istruzione della struttura del CPR. Si legge nel provvedimento del GIP, finalizzata a rendere inagibili gli alloggi destinate ai cittadini extracomunitari. L'obiettivo veniva effettivamente conseguito alla luce del provvedimento di interdizione all'accesso di tutti i settori colpiti dall'incendio. Molti immigrati durante l'azione incendiaria hanno il volto coperto e indossano i cappucci delle felpe rendendosi irriconoscibili. I tre fermati, avendo il volto scoperto, sono stati subito identificati. I tre, secondo la ricostruzione, hanno primo bruciato coperte e cumuli di carte plastica utilizzati per dare alle fiamme i materassi accatassati, sprigionando una densa nube di fumo che è rimasta intrappolata nei locali. Gli inquirenti hanno anche scoperto che un immigrato aveva il compito di chiudere le porte delle stanze appena incendiate per aumentare la potenza distruttiva del fumo. Giro di vite contro parcheggiatori abusivi e illegalità diffusa. Nel centro storico di Siracusa la Polizia di Stato insieme a Argico e la Polizia Municipale sono intervenuti nelle zone dove sono presenti solitamente parcheggiatori abusivi. identificati, denunciati e sanzionati alcuni parcheggiatori, i servizi hanno inoltre intensificato le attività di prevenzione dei reati in centro, innalzando la percezione della sicurezza reale e percepita della cittadinanza. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, siamo da voi tra poco. Ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG. La Polizia ha individuato e identificato due minorenni, due 17enni, che sono ritenuti responsabili del danneggiamento della fontana di piazza Giordano Bruno a Vittoria la notte di Capodanno. Due 17enni noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati per il gravissimo danneggiamento della fontana del 1800 in piazza Giordano Bruno a Vittoria la notte di Capodanno. I due hanno pianificato un vero e proprio atto delinquenziale, deturpando un raro monumento storico. Hanno posizionato un artificio pirotecnico-artigianale di grosse dimensioni alla base della fontana ottocentesca per poi allontanarsi in attesa dell'esplosione. La forte deflagrazione ha causato il collasso di gran parte del monumento artistico. Subito dopo il gruppo di giovani si è allontanato facendo perdere le tracce. Hanno così deciso di festeggiare il loro Capodanno. I due balordi sono stati incastrati dalle telecamere di videosurveglianza e sono stati deferiti alla procura dei minorenni di Catania per danneggiamento aggravato e accensione ad esplosioni pericolose in luogo pubblico. La pagheranno cara, aveva dichiarato ai nostri microfoni. Il sindaco di Vittoria, Francesca Aiello, all'indomani del danneggiamento. Presentato il piano di sicurezza per i festeggiamenti di Sant'Agata a Catania. Ingressi contingentati per Piazza Duomo per la sera del 3 e poi 3.000 persone in chiesa per la messa e l'aurora sono alcuni dei numeri del piano di sicurezza per gli immienenti festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Oggi è stato presentato il piano di sicurezza affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. La mattina del 3 febbraio la processione per l'offerta è la scera. Anche in questo caso un numero contingentato di persone in Piazza Duomo quando usciranno le carrozze. La priorità della festa, la sicurezza, l'abbiamo messo al primo posto. Ci saranno tanti eventi purtroppo contingentati proprio per questo motivo. Anche la mattina del 3 mattina, generalmente non è mai stato così, anche quest'anno. Invece quest'anno il 3 mattina la processione all'offerta della scera sarà contingentata. Alle 11.30 in Piazza Sesicoro, anche Piazza Duomo sarà chiusa proprio per dare maggiore tranquillità per l'uscita dei cavalli. La mattina del 3 a salire sulle carrozze tre studenti catanesi. Al posto mio saliranno i futuri protagonisti di Catania, i ragazzi delle scuole medie e tre ragazzi delle scuole medie scelti sulla base di un compito sulla Catania che sarà, sulla Catania che vorranno, elaborati che io ho letto. Per la sera del 3 la novità sarà il concerto e l'orchestra giovanile del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, accompagnata al coro lirico siciliano e poi, oltre al consueto e atteso spettacolo pirotecnico, anche una sorpresa alle 20.45 per quanti arriveranno in Piazza Duomo e poi tanti momenti musicali. Per la Messa e l'Aurore in chiesa si entrerà da Via Vittoria Emanuele e si seguirà un preciso percorso e stessa cosa avverrà il 5 febbraio per il Pontificale dove entreranno 2.500 persone. Anche per la salita dei Cappuccini, ingressi contingentati in Piazza Sessicola e lungo il percorso. La festa di Sant'Agata è una festa di accoglienza e la città non è blindata, ma la città si prepara ad accogliere fedeli, devoti, ospiti che vengono dalla Sicilia, che vengono dall'Italia, che vengono da altre parti del mondo e si preoccupa che tutti insieme guardiamo a Sant'Agata con gioia. Le norme, le regole servono solo a questo. Video Mediterraneo sarà in diretta a partire dal 3 febbraio per portare alle vostre case le immagini più belle della festa. Canale 17 e www.videomediterraneo.it Adesso una notizia che vi diamo con dispiacere riguarda un lutto in casa. Video Mediterraneo si è spento questa mattina all'età di 80 anni. Pietro Polizzi che è il padre di Alberto, operatore di regia. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa di Santa Maria la Nuova a Scicli. Il corteo si muoverà da casa alle 15.30 per raggiungere la chiesa. Ad Alberto e a tutta la famiglia le condoglianze di Video Mediterraneo. Con questa notizia chiudiamo l'edizione. Grazie per averci seguiti e a voi tutti buon proseguimento di serata.